Lori aveva ragione, non ti prendi la responsabilità delle cose che ti accadono nella vita. Tu sì invece? Io non devo farlo, sono un orsetto di pelus. Senti, io non ti ho legato mani e piedi e trascinato a quella festa, ok? Volevo che venissi perché pensavo che fossi il mio migliore amico. Perché non ammetti che consideravi Lori una minaccia per la nostra amicizia? Mi pare che per te fosse il massimo quando eravamo strafatti sul divano alle nove del mattino. Ma ti ascolti? Chi sono? L'imperatore Ming che controlla la tua mente? E' una tua scelta, John. E se dai la colpa a me, ti comparti da femminuccia immatura. Sai, se ripenso a quella mattina di Natale quando avevo otto anni, vorrei aver ricevuto un Teddy Ruxpin. Che cosa vuoi intendere? Intendo che come orso fai pena! Fermati! Fermati! Cazzo! 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 Perché piangi? La tv mi ha rotto le palle